Senti, Samson, o non finiremo mai questo lavoro in modo rapido né efficiente. Samson caricò alcuni massi, determinato a dimostrare a tutti quanto lui fosse importante. E che mi dite di quei vagoni? Devono andare al porto, non è così, Serendal? Sì, Samson, ma dovrai tornare a prenderli più tardi. Non puoi di certo portare tutti quei vagoni insieme. Sì che posso. Non mi chiamano Samson il forzuto per niente. Non voglio fare avanti e indietro più volte di quante sia necessario. Li prenderò adesso e risparmierò tanto tempo. Sei proprio sicuro che risparmierai tempo così, Samson? Una volta preso il via, non crederai quanto posso essere veloce. Hai ragione, non ci credo. Anch'io riesco a crederci, Samson. Buona fortuna. Samson riuscì poco a poco a prendere un po' di velocità. Nessuno crede che io possa fare qualunque cosa. Ma è per questo che Ser Topham mi ha chiesto di... Fermarmi? Oh, no! No! Oh! Quindi adesso posso anche andare? Ma quando Samson arrivò alla collina di Gordon, i suoi problemi cominciarono sul serio. Oh! avrò bisogno di velocità per salire in cima. Avanti, puoi farcela, Samson. Mostra quella collina. Di che pasta sei fatto? Samson tornò indietro e ci provò di nuovo. Bene. Ok. Possiamo farcela. Andiamo, Samson. Non farti sconfiggere. E' tutto inutile. Thomas aveva già consegnato i suoi vagoni al porto ed era sulla via di ritorno verso la cava. Stai facendo un bel riposino per caso, Samson? No. Sto lavorando sodo, come sempre. Non hai visto quanti vagoni sto trainando? Non saranno troppi? Sto cercando di risparmiare tempo, Thomas. Bisogna portare a termine il lavoro. Magari potresti darmi una spinta invece di fare commenti sciocchi. Thomas si posizionò sull'altro binario per poter dare una spinta a Samson. Meglio arretrare un po', Thomas. Devo guadagnare velocità. Ok. Sto partendo. Il binario è libero. Sì. Fermo, Samson. Fermati. Ciao, Thomas. Sto andando nel verso sbagliato? No. È colpa mia. Stavo aiutando Samson a portare i suoi vagoni sulla collina. Ne ha agganciati troppi. Questo non è vero. Posso darvi una mano? Oh, buona idea. Sei pronto, Samson? Certo che io sono pronto. Io sono sempre pronto. Uno. Due. Tre. Spingi! Avanti, avanti, avanti. Lo sapevo che ce l'avremmo fatta. Lo sapevo, lo sapevo. Grazie, Paxton. È stato un piacere. Thomas, no! Rallenta i vagoni! Rallenta i vagoni! Bravissimo, Thomas. Eccellente. Ora è tutto quanto sotto controllo. Ok, Samson. Puoi fermarti, per favore? Adesso devi farmi sganciare. Oh, non c'è tempo per fermarsi, Thomas. Sono già in ritardo. Così, Samson trascinò Thomas fino al porto di Brandham. Che a lui piacesse o meno. Samson è arrivato, signore, al suo servizio. Ho portato altri massi dalla cava, signore, come richiesto. Si può sapere che cosa stai combinando, Samson? Questa è solo la prima consegna che fai in tutta la mattina. Eh, sì, signore. Ha ragione, signore. Mi sono bloccato e sono rimasto fermo sulla collina di Gordon. Non ne sono affatto sorpreso. Stai portando un numero esagerato di vagoni. E posso sapere che cosa ci fa Thomas agganciato al retro del tuo treno? Oh, dovevo immaginare che anche tu fossi coinvolto, Thomas. È colpa mia se Thomas è qui. Lui mi ha solo aiutato sulla collina. Non mi sono fermato per farlo sganciare. Volevo risparmiare tempo ed essere efficiente, signore. Ma non stai risparmiando tempo, Samson. Anzi, stai causando confusione e ritardi. Quando Samson tornò finalmente alla cava, Thomas era già stato caricato ed era pronto per ripartire. Mi dispiace, Thomas. Non avevo intenzione di metterti nei guai. Va tutto bene, Samson. In realtà, l'unico che è finito nei guai sei tu. È stata colpa mia. Non importa. Bisogna imparare dai propri sbagli. Perciò, immagino che non prenderai tutti quei vagoni la prossima volta. Ma certo che no, Thomas. Sarebbe una vera sciocchezza. Ma mentre Thomas si avvicinava alla collina di Gordon, Samson arrivò a tutta velocità e questa volta stava portando soltanto un vagone. Samson! Ne puoi portare più di uno, sai? Lo so, Thomas, ma è molto più veloce in questo modo. Si risparmia tempo sul lungo termine. Oh! Ma Thomas sapeva che Samson non stava risparmiando tempo. Si stava soltanto...